Intanto noi andiamo sul loro campo, quindi al di là che, come ha detto lei, hanno vinto anche a Benevento, fuori casa, nel girone di torno è sempre difficile andare a vincere. Quando ancora la matematica non dice chi è salvo, chi no. Sono tutte partite difficili, agguerrite. Noi abbiamo visto come ci ha affrontato qualche settimana fa il Verona. Dobbiamo essere preparati, anche perché l'ultima partita contro una squadra forte come la Lazio la stavano addirittura vincendo, non pareggiando. La Lazio che ha pareggiato l'ultimo venuto, io ho visto la partita, è veramente una squadra organizzata, un bravo allenatore, sono motivatissimi, un ambiente caldo. Quindi tutte queste cose fanno sì che noi dobbiamo farci trovare preparati, da tutti i punti di vista, per fare una partita diversa dalle ultime, dove purtroppo, come sapete, siamo tutti arrabbiati e non siamo riusciti a fare risultati.